Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova lezione sul suolo. In questa lezione parleremo dell'importanza del suolo per tutti gli organismi viventi. Il suolo è così importante perché è una risorsa naturale fondamentale per la vita sul nostro pianeta e quindi fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi. Primo motivo, il suolo è una risorsa di base. Come sempre vi consiglio di prendere appunti mentre ascoltate la lezione. È una risorsa di base perché fa crescere le piante, quindi come abbiamo già visto qualche tempo fa, le piante essendo l'alimento principale per gli erbivori e poi i carnivori si nutrono degli erbivori e così via, automaticamente le piante sono alla base di tutti gli altri organismi e altro motivo per la produzione dell'ossigeno. Quindi il suolo è una risorsa di base perché permette la crescita delle piante. Secondo motivo, il suolo svolge un ruolo di filtro depuratore. Nelle lezioni precedenti abbiamo già parlato del comportamento del suolo rispetto all'acqua, della porosità e della permeabilità e abbiamo visto che il suolo riesce a farsi attraversare dall'acqua in un modo più o meno semplice e per questo motivo l'acqua che dal suolo poi va sempre più in profondità viene proprio depurata dal suolo perché nel momento in cui si trova in superficie fino al momento in cui va a finire nelle falde idriche sotterranee e poi noi utilizziamo quest'acqua, in questo percorso le particelle minerali e gli organismi viventi che si trovano nel suolo e in particolare i batteri svolgono questo compito, tutti questi vanno a depurare l'acqua prima che arrivi nelle nostre case, nelle falde idriche e così via. Terzo motivo di importanza del suolo, la stabilità dei terreni. Il suolo insieme alle piante e in particolare alle radici delle piante va a contribuire all'aumento della stabilità dei terreni in pendenza, questo perché il suolo trattenendo l'acqua e le piante grazie alle loro radici vanno a trattenere il terreno impedendo quindi la formazione delle frane. In tutto questo discorso abbiamo nominato anche alcuni esseri viventi, ci siamo soffermati anche sui batteri. Allora per andare ad approfondire la questione dell'attività vitale presente nel suolo andiamo a vedere quali organismi possiamo trovare al suo interno. Allora andiamo a vedere. Innanzitutto possiamo trovare nel suolo i funghi che abbiamo già studiato e quindi sappiamo che i funghi hanno il compito di decomporre i resti degli organismi vegetali e animali ormai morti. Quindi tra le tante attività svolte dai funghi, perché abbiamo visto che si nutrono in vari modi, quella che ci interessa in questo momento è questa. Poi abbiamo vari tipi di esseri viventi, dalla piccolissima formica alla talpa, che è un mammifero piccolo ma comunque più grande della formica. Allora per quanto riguarda le formiche, gli scorpioni, gli agari eccetera eccetera, loro che sono piccoli si occupano di frammentare le foglie secche e vanno poi con il loro movimento a mescolare il terreno. Poi per quanto riguarda le talpe invece, quindi rimaniamo sempre nell'ambito di questi esseri viventi, le talpe vanno anche loro a rimescolare il terreno e quindi vanno a fare entrare più aria all'interno del terreno. Sempre per quanto riguarda gli animali abbiamo anche i lombrichi di cui abbiamo già parlato e i vermi in generale cilindrici, che sono tra gli abitanti più numerosi del suolo insieme ai batteri. Anche i lombrichi vanno a muovere e rimescolare il terreno e vanno quindi a contribuire alla formazione dell'humus. I batteri come funghi si occupano della decomposizione delle sostanze organiche e sono gli organismi più numerosi all'interno del suolo. Infatti se prendiamo una moncia di terreno del nostro giardino ad esempio, lì dentro riusciamo a trovare anche miliardi di batteri. Ultima cosa ma non per importanza perché l'abbiamo citata tante volte, all'interno del suolo troviamo anche le radici delle piante. Le radici delle piante all'interno del suolo vanno ad assorbire acqua e sostanze nutritive, quindi sali minerali e abbiamo già detto che vanno a trattenere anche il suolo evitando in questo modo l'erosione e la formazione delle frane. Nella prossima lezione parleremo del terreno agricolo, quindi vedremo l'attività dell'uomo, come va a modificare il suolo per quanto riguarda l'agricoltura e parleremo anche del compost, che è un fertilizzante naturale.